Ciao a tutti ragazzi, io sono Tony6 e oggi siamo qui per fare un nuovo video di Clash Royale Allora, prometto che lo registro sul tablet, perché là ho due leggendari di cui il drago invernale e la principessa Quindi andrò a fare le battaglie o delle amichevoli, non lo so, tutti e due può darsi Allora, andiamo! Allora, qui abbiamo il mio tablet con giaccole film Allora, eccolo, vedela, ecco, allora, accendi, ok, così E andiamo a vedere, questo è il mio deck, vuole vedere il drago invernale e la principessa Allora, ecco, nella shop non ho niente Allora, e... Andremo a fare una battaglia, ma con Marco, ma prima qui Questo è il mazzo chiuso, allora, drago invernale e la principessa Scheletrone Prigionero, domatore, strega, furia e stregone Allora, andiamo subito in battaglia, perché non voglio perdere più tempo Allora, andiamo Allora, ragazzi, è un livello 7 e quindi potrei avere la possibilità anche di vincere Mi butto quello, mi butto quello, mi butto questo Guardate Poi oggi, però lo so, farò pur a Natale, farò l'unboxing, se mi arriverà Della Wii U, molto bella Qui, che mi piace da quando ero piccolo Guardate Tutto questo, sbagliato mi sa C'è una luminosità C'è cieca Tra lo stregole E... Speriamo che fa... no No Mi butto questo Mi butto il principe nero In modo che Non debolisse Purtroppo, ora è Lord Rider Questo mi sa che ci va la torre, raga Strega Subito Ok, ragazzi No, i barbari I barbari Ragazzi Speriamo di fargli un po' di dann Purtroppo Allora Possiamo provare un po' con Lord Rider A fargli un po' di dann Guardate Allora Da Quella Ok Guardate Ok Ok ragazzi Guardate Guardate Sto accendo Lo stregole lo sta ammazzando a Martina Ragazzi Andiamo Di principe nero stregole Dobbiamo Dobbiamo Fargli la torre Subito Ok Ok perfetto Noo È rimasto Uno sgherro Ora Dobbiamo solo difendere Dobbiamo solo difendere Dobbiamo solo difendere Dobbiamo solo difendere Ragazzi Ragazzi Noo Ci ha fatto la torre Ragazzi Guardate 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 Che sta succedendo Guardate Che sta succedendo Guardate Ragazzi Guardate Io gli sto buttando Tutto Ragazzi Io ci sto provando Sottiene Sottiene Tantissimo Non poco Guardate Ragazzi Seppareggeremo Però Che Aspetta Questo Bene Ora Grazie Ragazzi Ragazzi Io voglio Che vinca No Dai Dai Drago Allargo Non so che si vede Ragazzi Abbiamo pareggiato Ragazzi Abbiamo pareggiato È stato bravo Però Perché Se Non buttano Niente Qua Vi buttano La figura E poi Lo prendo Abbiamo pareggiato Ok Di prendiamo Anche Bella Giocata Dove Ok Ragazzi Purtroppo Questo Video Termina Qua Io vi auguro Che vi siete Che vi siate Visto il video E Ciao 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 Grazie.